Lavoratori, volete manifestare per il diritto di sciopero? Sicuri? Va bene. Se volete perdere una giornata di salario, andate pure alla manifestazione CGL a Roma il 4 aprile al Circo Massimo. Ma se invece rinunciate a vita al diritto di sciopero, allora potrete vincere un fantastico viaggio premio offerto dal vostro bene amato car Carlo Pravettoni nei mari del sud, dove? A Porto Marghera. Come non è al sud? Io ho la casa a Portenone.